a questo stato due mesi incredibili no perché la prima mese noi è girato in germania a questo ed è un altro mese a roma e finicità e fuori di roma e quando noi fatto la presenza si stampano gli estate il addori giovane e noi tutti aspettiamo a un tavola tutti gli attori e dopo entrato nel libro di vinto l'oscar per amadeus il regista e john connery e a questo momento quando quelli tre entrato tu visto solamente la presenza di show e per la prima volta di capito la differenza di una world star e altri grandi addori una presenza anche al 6 di fenomenale e io parlato con il regista di questo cose e ha detto ma senti la presenza incredibile e lui detto mi si è come un rolls royce quando tu gira così lui capisco immediatamente e a questo momento io anche capito lui non solamente il james bond lui veramente un attore incredibile so per me è stato e due mesi per un attore giovane incredibile perché tanti attori molto famoso william hickey e tutti quelli tu lo sai è molto strano ma tutta la stampa tutta la televisione in italiano scritta del libro ma non penso tanti leggono no perché il libro non è venduto molto molto buono buono ma non anche il mio publisher biblioteca edizione ed senti noi non conosco uno scrittore che ricevuto così tanto stampo stampa no ma io penso anche cassetta delle sport corrieri e tutti quelli no scritte al bacine di calcio ed o noi tutti i nostri amici italiani leggono la gazzetta per calcio ma non vuol dire un libro forse anche questo ma ma per questo venduto ma non come pensato ma è un'autobiografia racconta la tua vita a svizzera l'autobiografia perché uscita in tedesco no e a svizzera è stato un best seller il numero 8 dell'anno e scrive tutto no come io nato svizzera senza pappa mia madre bianca dopo come vorrei giocare come belle ricevuto un contratto con 10 9 anni sono l'incidente sono ridere ridere dire noi la mia carriera è finito e per questo anche forse dieci anni dopo io ho ricevuto la possibilità per fare le esperienze di una grande calciatore come il film lanitori nel polone e per me è stato come una circola di 300 gradi e per questo io sempre di dica grazie dio per questo per questo lavoro perché per me è stato possibile con la parte di aristotle per fare tutte le emozioni di un calciatore e questo veramente è un regalo di dio se anche un altro in bello storia in italia no due anni fa quello piccolo railroad brewing il regno contatto me ha detto senti noi vorrei fare una birra con te io prima pensato ma quelli giocatori ma quelli giocano no 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 perché noi fatto per sei giocatori e voli chiudere questa eseria e noi pensare perché tutti amano aristoteles poi fai con te e per me è stato un un onore incredibile no e dopo un anno è stato la canza in italia e la railroad telefonata e tutti parti 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 e ti ha pensato a quelli un buon bevuto urs noi vinto l'oscar della birra è una storia molto belle noi vinto il birra dell'anno e per questo io penso ogni addorio persone no c'è una grande o è un onore per me per ricevere il birra con il mio nome l'ultimo film di fatto a germania e october fest c'è una 6 serie 6 episodi a tutto il mondo questo è l'ultimo film che uscito l'ultimo anno la serie ha vinto in germania il film dell'anno di una serie questo è buono è sempre progetti ma io ho fatto un film quattro mesi fa ma ancora non è uscito perché quelli cercano ancora un po soldi ma io ma io piace questo film molto perché sono il mio parte di un svizzero di colore di fai spingere la sport nazionale no è un po strano ma adesso ai costi fingers per la produzione ma io vorrei certamente lavoro ancora in italia grazie a tutti grazie a tutti